il campeggio nella foresta credo che siamo alla fine o ci manca un livello o dopo di questo dovrebbe esserci il livello quell'automatico tipo vediamo ci manca solo questa via qua ci manca questo scendi però ecco ci manca questa via quella che poi ci riporta alla scuola di hula perfetto va bene va bene l'osservatorio ok e rieccoci dunque all'osservatorio l'altra volta noi siamo andati di qua giusto questo vuol dire che dobbiamo andare da questa parte e quello è un livello in autoscorrimento in cui dobbiamo fuggire ma non mi ricordo se dobbiamo farlo costiccio con l'ilo vabbè iniziamo a combattere questo è quello di roccia semplice in teoria dovremmo forse ucciderlo con quattro colpi dai ok no è penso che crescano in base a quanti dei combatti fatto no forse è vero forse è da da cinque colpi forse quello che ho appena detto una cavolata pensavo mi avrebbe preso ecco lo sape guarda lo sape no comunque ci abbiamo messo più di cinque colpi lo sapevo che mi avrebbe colpito con il resto dell'animazione eppure sono andato avanti lo stesso credo che tocca stitch però no tocca a lilo si mi sa che tocca a lilo il sentiero kokuoki bubbles allora noi ad ora abbiamo mancato solo un livello di completarlo 100 per cento ovvero uno di questi livelli a scorrimento bubbles lilo stai lì scappa lillo ma è un'anguria ma perché a parte che sembrano le cicche che vendevano anni fa dentro dentro gli oratori quelli a forma di angurie la musica che c'è durante i livelli a scorrimento è incredibile quelle al melone che erano anche buone sta bene tanto adesso risale ecco qua stiamo andando bene eccolo guarda lo che è riapparso eh lilo lo so c'hai ragione anche tu lilo mi spiace di averti fatto cadere è stata la profondità non è stata colpa mia eccolo guarda lo che è riapparso dalla collina totalmente a caso aia che male ecco qua questo 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 non c'era nessun bisogno di prenderlo il la cura però già ci siamo ascolta forse ce la facciamo vediamo se riappare sì ecco ha fatto la la tiposa ti prego comunque dai ce ne manca solo uno perfetto mi lasci in pace sono pur sempre minorenne non doveva cadere di sotto madonna mia troppo vicino vai via allora non mi importa non mi importa perché l'importante era prendere il radar cerca sfere e in questo momento a questo punto tutti gli oggetti di questa zona li abbiamo già presi stavo bagnoppando troppo male vediamo se scusami in teoria non dovrebbe cadere qua no a quanto pare no colpa mia che ho voluto prendere gli oggetti quindi lui si è ravvicinato troppo ok da qui ci mancano una quindicina esatto di melo non so come mi sono salvato no oh 100% grandi successi abbia saltato solo un livello ciao 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 ciao